Diventa esperta nella ricostruzione delle unghie, prenota il tuo corso in un solo weekend a Pinerolo, per informazioni 021 30 36 20, i posti sono limitati. Questa mattina è stata letta la sentenza del processo a carico delle tre maestre titolari dell'asilo nel Paese delle Meraviglie. Il giudice Luca Del Colle le ha condannate per maltrattamenti a 10 mesi Elisa Griotti e Stefania Di Maria, mentre 12 mesi per Francesca Panfili. Le maestre sono invece state assolte per il reato di abbandono. Elisa Griotti dovrà inoltre pagare 200 euro di risarcimento per l'episodio dei morsi ad una piccola ospite. Il pubblico ministero aveva chiesto a tutte e tre i 18 mesi. Il dispositivo è conforme alle nostre richieste, c'è stata una soluzione per un caso di imputazione, diciamo quello forse meno rilevante, però i maltrattamenti risultano confermati con bene e per certi aspetti sono anche significative. Quale conclusione detrae da questa vicenda? Ma intanto che per certi limiti l'indagine non era completamente campata in aria, in più non ci troviamo di fronte, l'abbiamo detto anche noi come procura, a casi fortunatamente così gravi. Nel contempo è la dimostrazione di forse che andrebbe fatta una maggiore attenzione per quanto riguarda la possibilità di aprire strutture dedicate alla ricezione dei bambini, all'appoglimento dei bambini. Cioè non è facile, non ci si può inventare maestre da sede un giorno o un altro.